Impressionante, hai potenziato la tua armatura, ma anche io ho fatto dei miglioramenti. Wow, ma mi prendi per il culo? Tutto qui? Eh, ci mette un po', ma ti prenderò! Ne sei sicuro? Cioè, ci ha mai volato con quel coso? Eh, non proprio, ma ti assicuro che è molto più avanzata della tua! Beh, se dici che è più avanzata credo proprio non ti farà niente il mio missile anticarro! Oh, ma dai, la vernice era nuova! E l'hai ucciso? Beh, sì, se non l'avessi fatto io l'avrebbe fatto Pepper, quindi mi sono preso la responsabilità. Mi sa di arrogante e avventato. Bello, lo hai ammazzato. Mi sa di cattivo. Cioè, lo conoscevi da una vita. Ha provato ad uccidermi due volte. E non avete capito che se sbattete i cattivi in prigione, quelli usciranno vogliosi di vendetta ogni volta? No, quello no, non succede mai. E dopo che è successo? Beh, ho indetto una conferenza stampa e ho detto a tutti che sono Iron Man. Cosa?! Ciccio! Non puoi rivelare la tua identità segreta. Perché no? Io l'ho fatto. E sono un figo. Quindi... Alla faccia. Ma non puoi! Cioè, non dovresti! Mi piacciono le attenzioni. E non ditemi che non avete mai rivelato la vostra identità prima. Ehm, no. Ha! Dillo ad ogni ragazza con cui sei uscito. Cosa? Oh, sono Bruce Wayne, mia tizzi. Lascia che ti riveli il mio segreto. Oh, senti chi parla. Signor memoria corta. Oh, non ci provare. Ti congelo la faccia. No, non lo farai. Già, hai ragione. Gli voglio bene. Batti qua. Ma sai che con un 5 ti potrei spezzare il braccio, eh? Ragazzi, ragazzi, non è una gara. Perché se lo fosse sapremmo tutti chi vincerebbe. Io. Oh, Mattane. No, non ci provare. Sono Batman. Facciamo abbraccio di ferro, ti sfido. Ehi, perché a me non avete mai chiesto di uscire? Ehi, perché a me non avete mai chiesto di uscire? Pierremi che nasta. Sì. T sidecosa cosa.